e siamo riusciti finalmente ad agguantare Alessandro Botturi qui in un sopralluogo nei suoi terreni dove si allena, la moto l'ha già spedita perché adesso ci dirà dove l'ha spedita la moto perché oramai Botturi ha cambiato completamente tipologia di gare, è sempre in sella ma fa un altro tipo di attività. Allora Alessandro, il 2012 l'ha svolto nella tua carriera, un pilota come te che ha vinto tantissimo, poi ci andrai anche a raccontare quanti li hai vinti di titoli, ma quest'anno dove ti vedremo? Quest'anno sono impegnato nel mondiale rally, sono 5 gare, tutte belle impegnative in preparazione Dakar 2013, sarà un campionato impegnativo, lungo con 6 giornate per gara, inizieremo già adesso ma imminente a Abu Dhabi, poi Qatar, Sardegna, Marocco e Faraoni. Sì, sono 5 tappe importanti e speriamo di ben figurare l'obiettivo e non voglio strafare né niente perché voglio ancora imparare a navigare, voglio ancora imparare a prendere un buon feeling con le moto grosse visto che è abbastanza più pesante di una moto da enduro e come ho detto è preparare bene la Dakar 2013. Team Bordone Ferrari, una nuova struttura sportiva che ti ha portato alla Dakar innanzitutto, che ti sta preparando una moto, quindi in questo momento siete ancora in assetto provvisorio dal punto di vista tecnico e ci vuoi dire con quale moto correrai questa prima gare e che cosa state preparando? Le prime gare che faremo sia a Abu Dhabi che Qatar, correrò con la KTM 450 Rally, la moto che ho usato alla Dakar e invece stiamo preparando una moto tutta nostra, siamo a buon punto, inizieremo a fare i primi veri collaudi dopo il Qatar dopo metà aprile, Sarà una moto chiamata Bordone Ferrari come il team, motorizzata TM e speriamo di fare un ottimo lavoro, moto made in Italy, moto tutta italiana, ci teneva il patron del team a fare una moto tutta italiana, speriamo che sia anche competitiva. Alessandro, la Dakar, pronti via, sbattuti in mezzo agli ambienti di questa nuova Dakar, perché oramai si corre dall'altra parte del mondo, non si corre più in Africa, che esperienza è stata? La Dakar è una sua esperienza veramente impegnativa, mi immaginavo ma non pensavo una cosa impegnativa, perché la mattina ti svegli a 3 e mezza di mattina, perché a 4 e mezza stai già partendo, 700-800 km al giorno nel deserto non sono facili tutti i giorni, arrivi la sera, devi fare roadbook, dormi in un bivaco in tenda, sacco a pelo, è veramente impegnativa sul lato fisico, fisico ma anche sul lato mentale è veramente tosta, però ci tenevo a farla, ho avuto due mesi per prepararmi, grazie al team Bordeaux in Ferrari che mi ha messo a disposizione Giordi Alcanos, penso un campione dei rally africani e soprattutto ha allevato tanti campioni da Roma, Coma e tanti altri e penso che sono nelle mani migliori. Quindi si è entrato a far parte di questo incredibile mondo dei rally africani, ma per i nostri telespettatori che non sono poi così addentro, questo campionato mondiale rally ha detto 6 giornate di gara, ogni tappa, ogni uno di queste 5 prove sono 6 giornate di gara? Sì, ogni giorno non fa classifica, viene sommato il tempo e alla fine dei migliori 6 giorni vince chi ha fatto il miglior tempo possibile, il minor tempo possibile. Sono 6 giornate impegnative perché poi si parte a rotazione, chi vince la prova speciale il giorno dopo parte per primo perché nel deserto aprire la pista non è facile, e chi è dietro seguendo qualche traccia hai sempre un po' una conferma di dove stai andando. Chi invece apre la pista è impegnativo, io in questo periodo mi sto allenando in questo, sono stato 12 giorni in Tunisia a allenarmi, per 10 giorni ho aperto sempre io la pista per i miei compagni per abituarmi e speriamo di utilizzarla a Budavi, sarebbe già un grossissimo risultato aprire la pista. Alessandro, di gare di 6 giorni ne hai fatte tante, la maglia azzurra l'hai vestita nell'enduro tantissimi anni e di titoli ne hai vinti tanti. A un certo punto, mi ricordo molti anni fa, c'era questo Alessandro Botturi che è astronascente del rugby bresciano, che però aveva la passione delle moto e piano piano hai sempre smesso di usare la palla ovale e hai cominciato a usare il manubrio. Insomma, un flash indietro, in che periodo hai iniziato a correre in moto definitivamente? La passione della moto ce l'ho sempre avuta, la moto diciamo che dai 14 anni in su ce l'ho sempre avuta, facevo qualche garetta e intanto ho sempre giocato a buoni livelli, ho giocato in 1-2, ho fatto una azione giovanili e a un certo punto ero nella svolta un po' non sapevo bene se scegliere le moto perché avevo la possibilità di farlo a livello diciamo professionale sia la moto che il rugby e ho scelto la moto, sono contento della scelta che ho fatto ma ho ripagato diciamo della scelta e soprattutto veramente un mondo bellissimo, tanto anche il rugby è un mondo veramente bello però dai penso che mi sono tolto belle soddisfazioni, ho vinto 9 titoli italiani, ho fatto 15-6 giorni, ho vestito sembra 12 volte la maglia azzura e penso che quello che dovevo fare nell'enduro, tranne penso l'unico rammarico che ho è che non ho vinto un titolo mondiale individuale ci sono arrivato vicino tre volte, sono salito sul podio tre volte e mi ha mancato questo però sinceramente non è un rammarico perché ho sempre dato tutto e non posso recriminarmi niente con me stesso Alessandro, dal rugby chiaramente hai preso lo stile e la purezza dello sport che questa disciplina ti ha portato l'hai portata nell'enduro, hai sempre corso con grande lealtà, con grande simpatia la cittadina di Lumezzane si è sempre stata intorno a te, chiunque di Lumezzane ti conosce quindi hai sicuramente avuto una grandissima soddisfazione da questa attività di motociclista i rally sono un'altra cosa, forse sarai un pochettino meno sotto i riflettori Sì, adesso l'enduro lo sto vivendo diversamente, maleno ancora con la moto da enduro, maleno ancora tanto però ormai senza pressione, invece il rally è un mondo nuovo, sicuramente non sono io l'uomo da battere nei rally ci sono tanti altri, da Coma, De Prea e tutti, io dal canto mio ci sto mettendo il massimo per in un futuro, speriamo non troppo lontano, riuscire a meno insidiare i campioni dei rally africani Vogliamo dare un appuntamento ai tuoi fans in territorio bresciano, a breve? Sì, a breve ci sarà l'Extreme Lumezzane, il 2 giugno, sabato 2 giugno, ritorna secondo me una delle gare più belle al mondo e speriamo di ben figurare, farò adesso due gare, due tappe del mondiale rally e poi diciamo dal 20 di aprile mi allenerò per ben figurare alla gara di casa se per caso dovrei fare il risultato grosso, veramente abbandonerò definitivamente l'enduro speriamo di fare qualcosa di positivo Bene, e noi te lo auguriamo, grazie Alessandro Botturi in bocca al lupo per questa nuova svolta della tua carriera e perché no, arrivederci sul podio qua a Lumezzane Grazie a tutti, saluto tutti e speriamo che sarebbe un bel sogno Grazie a tutti Grazie a tutti